... Avete del fuoco sulla testa? Fuoco? Tu comandavi la retata di giovedì? Signor sì C'era l'ordine di non lasciar scappare nessuno Signor sì E invece è scappato il pesce più grosso? Buona fe Il capo Sabaudo Badogliano Il futuro presidente democratico Deficiente! Signor sì E la prossima volta mi ero più in basso, eh? Due Italie in conflitto Due italiani irreconciliabili In un nuovo ruolo Una sorprendente grande interpretazione Di Ugo Tognazzi E un nuovo grande attore internazionale George Wilson Due grandi attori per un grande film Porco Giuda Con 8 milioni di baionette Proprio a me doveva capitare questa? Secondo voi cos'è la libertà? La libertà Venire da me Che sono mettiamo capo del governo Aprire la porta e dire Bonafè è un fetente Lei può fare questo adesso? Ma certo Vado da Mussolini, apro la porta e gli dico Bonafè è un fetente Ma che fanno? Ma sganciano Ma sono diventati parti Ehi! Ma cosa fate? Ma non lo vedete? Sono immutante Fermi! Fermi maledetto! Ma non lo vedete? Mezzogiorno, oh, finalmente si mangia Ma che ha detto ? Spara, spara ! Ma io non conosco questa mitragliera Osteria, devo aver colpito il comando Andiamo, andiamo Ehi, tu Dici a me Sì, sai dov'è ? No, guarda, io non so niente Caro professore, queste macchine, oltre che marciare su strada Sono anche anfibie Ciò significa che possono galleggiare sull'acqua Sì, sai dov'è ? Sì, sai dov'è ? Sì, sai dov'è ? Sì, sai dov'è ? Grazie a tutti Grazie a tutti